E di una persona deceduta di tre ferite il grave bilancio di un incidente stradale accaduto questo pomeriggio sulla strada statale 389 Nurolanusei all'altezza del distributore di carburante a pochi chilometri dal capologo Barbaricino. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente innescando una carambola che ha coinvolto altri due veicoli. Ad avere la peggio la conducente di una delle auto, Franca Amato, 47 anni di Fonni, rimasta gravemente ferita nell'impatto iniziale. Scattato l'allarme sul posto sono giunte diverse ambulanze dal 118 i cui sanitari hanno soccorso i quattro feriti e li hanno trasportati nell'ospedale San Francesco di Nuoro. La donna, ricoverata in codice rosso, purtroppo non ce l'ha fatta. È deceduta alcune ore dopo a causa delle gravi ferite subite nell'impatto. I vigili del fuoco del comando provinciale hanno messo in sicurezza i veicoli e la sede stradale. I rilievi di legge sono stati effettuati da carabinieri e pulizia stradale. La dinamica dell'incidente è in corso di ricostruzione. La dinamica dell'incidente è in corso di ricostruzione.